La riduzione da 7 a 5 dirigenti ancora non c'è. Forse un giorno la vedremo davvero, ma per ora non c'è. Si tratta per adesso solo di una mini riorganizzazione che non comporterà alcun tipo di contenimento della spesa sui dirigenti. Intanto Lucio Di Timotio rientra in possesso delle sue funzioni a partire dal 3 di novembre. Remo Bernardi ha in affidamento all'arga tecnica come deciso da tempo. Questa in realtà è una mini riorganizzazione, seguirà invece tra qualche tempo la vera riorganizzazione di tutta la struttura dell'ente. Adesso rientrerà in servizio lunedì Lucio Di Timotio che fino ad oggi è stato distaccato all'Ater e riprenderà in mano i servizi che già aveva prima di andare in aspettativa. Nell'attesa poi di fare la vera grande ristrutturazione nei momenti in cui l'architetto Lucio Di Timotio andrà in pensione insieme alla dottoressa Cristina Di Gesualdo allora lì ci sarà la vera riduzione in pianta organica e quindi stabilmente del numero di dirigenti che da 7 passerà a 5. Patrizia Scaramazza di origini pescaresi ma residente a Macerata e il nuovo segretario subentra a Iezi. Arriva una donna, sono veramente felice perché per la prima volta a Teramo comunque può vantare di avere un segretario generale donna non conosco la signora, me ne hanno parlato veramente bene sotto l'aspetto professionale sono fiduciosa, non vedo l'ora di conoscerla. Per quanto riguarda invece le spese sugli immobili e sugli affitti non se ne saprà nulla se non prima del prossimo anno la ricognizione dunque annunciata da tempo continua. Allora per quanto riguarda stiamo facendo una ricognizione dei fitti attivi e passivi, la volontà del Comune di Teramo è comunque di andare sempre più via via ottimizzando le risorse a disposizione i servizi che vengono comunque forniti all'ente in tal senso stiamo facendo una ristrutturazione anche all'interno dell'ente cercando di riaccorpare i servizi in modo tale da liberare degli stabili che costano al Comune di Teramo e quindi ai cittadini di Teramani un bel po' di soldini tra affitti ed utenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.